quella che batte per 3 a 0 il nante una juventus che finalmente si impone che finalmente domina che finalmente dimostra di essere una squadra superiore grazie soprattutto alla superiorità evidente di angel di maria ma non è il solo aver giocato bene quindi scopriamo oggi quelle che sono le pagelle di questo nante juve finito per 3 a 0 partendo chiaramente da da cesni io però prima vi ricordo di supportarci quindi mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella e se vi va supportateci con un semplice like allora partiamo da cesni diamo un 6 politico ma di fatto cesni non ha praticamente fatto nulla ottima la linea 3 brasiliana danilo 6 e mezzo tranquillità gestione del pallone intervento sempre pulito diciamo che lui in qualche modo fa il suo la sua solita partita da 6 6 e mezzo sempre preciso bremer anche lui 6 e mezzo da quella solidità che serve da soprattutto quella solidità che era mancata all'andata una partita da dimenticare per lui l'andata ricordiamoci il rigò o meglio il gol annullato su una spinta che secondo lui appunto non c'era l'ha detto anche al fondamentalmente prima della sfida detta ai microfoni detto io ieri ho visto il gol di vardiol e non l'ha annullato il mio si quindi ancora mi sto chiedendo perché soprattutto quello scivolone che aveva portato al il pareggio del nant oggi fa dimenticare tutto alexandro 6 e mezzo anche lui buonissima partita peccato sul finale stava addirittura segnando e poi si è messo di fronte a vlauch al momento del tiro meno male che di maria aveva già segnato la gone light tecnologica ha già assegnato il gol a di maria una buonissima partita salva pure un gol insomma è un alexandro che in questa in questa zona di campo nella linea 3 secondo me fa molto bene desciglio 6 io ho visto sbagliare tanti appoggi ho visto sbagliare tanti passaggi però diciamo che il suo lo fa io come esterno in un centrocampo a 5 lo vedo veramente male cioè mi sembra una forzatura però attualmente in casa juve questo c'è e quindi alexandro o meglio desciglio fa una buona partita non più di 6 non riesco a dargli più di 6 fagioli 7 gran partita di fagioli finalmente anche in europa si vede la qualità di questo ragazzo che lui ad imbeccare di maria per il primo gol recupera il pallone la da subito a di maria ma al di là di questo assist che francamente diciamo abbastanza diciamo rimane quello che io credo che al di là di questo sia la personalità che si vede perché fagioli non è soltanto precisione tacche punta fagioli anche tanta quantità fagioli recupera palloni fa bene una bella prestazione e soprattutto dopo l'erroraccio dell'andata gli serviva una partita in europa di alto livello e questo lo ha dimostrato ottima partita secondo me anche per locatelli darei 7 anche a lui perché è lui che detta i tempi è lui che dà la manovra giusta alla squadra è lui che ordina sempre la squadra anche quando ci potrebbe essere qualche ripartenza lui la smonta subito io a locatelli do 7 in questo ruolo il regista sta facendo secondo me molto bene finalmente al suo fianco a fagioli quindi finalmente alla qualità nel centrocampo c'è lui quando ha qualità attorno si trova bene dimostra di avere buonissima qualità e quindi anche lui 7 altra partita importante è quello di rabbio 6 e mezzo anche rabbio 6 e mezzo è sempre presente quando c'è la galoppa le garoppa galoppa quando c'è da recuperare i palloni li recupera un buoni una buonissima partita anche per il francese costic 6 e mezzo prende un palo in una ripartenza in cui poteva metterla in mezzo però alla fine fa bene da lì a tirare lui è uno un super uomo assist però se sul 2 a 0 non provi il tiro davanti alla porta ci può anche staro prende un palo mette dei buoni palloni in mezzo la solita tanta corsa ricordiamoci che questo ragazzo non ne salta una è sempre presente c'è sempre per max alleire per la juventus e quindi 6 e mezzo meritato per il buon costic e arriviamo al giocatore per eccellenza io francamente potrei dirvi 7 e mezzo 8 e mezzo io gli do 10 e io a questo di maria do 10 a un giocatore che in un momento così particolare perché immaginatevi il contesto juve tutto quello che sta succedendo al di fuori una juventus che si vince a spezia ma ha bisogno proprio di di maria e quindi per accelerare e quindi lui ci mette la marcia giusta una juventus che vede tra l'altro tutte le altre italiane passare in champions league tutte le altre squadre che erano con lei in champions league le vede tutte vincere tutte tra l'altro non segnando gol peculiarità solitamente della juventus ecco c'era una pressione addosso a questa juventus e lui cosa fa di questa pressione se la prende se la mette in tasca si ricorda che nel frattempo è un campione del mondo e ti fa una tripletta impressionante perché non c'è soltanto il primo gol il primo gol è una perla assoluta perché quando vedi da una posizione del genere calciare in questo modo e fare quel tipo di gol ti rendi conto che stiamo parlando di un gioco che è fuori dal mondo ma non è solo quello perché nel posto partita abbiamo parlato di quello ma non è solo quello a fare la differenza perché oltre a quello c'è anche il monumentale monumentale rigore e non per il rigore in sé per sé ma perché se l'è guadagnato lui facendo che cosa marcandosi tutta la difesa a tu per tu poi cosa fa quando diciamo c'è il rimpallo degli avversari lui la prende col tacco cioè stava per segnare il primo gol abbiamo visto che gol ha fatto il secondo gol stava per segnare di tacco poi l'avversario la prende col braccio espulsione da lì si aprono tutti gli scenari che sappiamo lui fa il 2 a 0 e poi arriva addirittura a segnare il gol del 3 a 0 di testa cioè ha segnato di rigore stava per segnare di tacco gliel'hanno fermata col braccio fa quel primo gol a giro incredibile e segna di testa se non gli vuoi dare 10 a uno che farà una partita del genere quando io lo dai 10 e quindi per me quello di Di Maria oggi è 10 punto e basta non voglio sentire altri voti perché è troppo Ken è l'unica nota storta della partita perché Ken in un momento del genere in cui la Juventus aveva tutte tutte le possibilità per fare un'ottima partita tutte le possibilità per ripartire perché sul 2 a 0 Ken era messo lì proprio per fare le ripartenze doveva gestire il pallone ecco non ne ha fatta una e io quindi a Ken ne do 5 e mezzo sbaglia una quantità di passaggi disarmante tecnicamente Moise Ken ha dei limiti spaventosi ma veramente spaventosi e va bene ormai è dimenticato e questo 3 a 0 ce lo portiamo a casa di 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 con grande felicità però questa scelta di mettere Ken al posto di Vlaovic io no no non è che l'unica capita tanto sì ok le ripartenze tutto quello che vuoi però qua stiamo parlando di un Ken che secondo me ha fatto una fatica immensa e dobbiamo ringraziare tutti quel santuomo di Angel Di Maria che ha fatto una partita sontuosa poi ci sono stati appunto i cambi e sono entrati vari giocatori alla panchina però di fatto poca roba ad Allegro 6 la formazione era questa non avevi nulla da fare in più o in meno quindi non ho visto grandi intuizioni io credo che questa è una partita che comunque è stata giocata bene ma che è fondamentalmente stata molto indirizzata dalla qualità di un di un uomo che è stato cercato per tutte le state e io mi ricordo ancora di quel periodo quando vi parlavo qui di su FCM Sport e di questa tentativa e vi dicevo aspettiamolo Angel Di Maria perché è di un altro pianeta aspettiamolo perché un ragazzo così che ti arriva a parametro 0 non lo trovi altrove perché le alternative si chiamano Berardi e Zaniolo quindi aspettiamolo a Juventus è fatto benissimo immaginate un Juventus stasera con Berardi o con Zaniolo che vi fa queste giocate fondamentalmente stiamo parlando di un altro pianeta di altre categorie ed è per questo che lo chiamiamo Di Maria altra categoria per questo lo chiamiamo Magia Di Maria perché questo è un giocatore veramente eccezionale che fa delle robe incredibili è entrato poi anche Vlaovic però ha avuto veramente poche possibilità e francamente la partita è già bella che è finita quindi poca roba voglio sapere se siete voi a questo punto intanto ditemi la vostra sui voti quindi fatemi qua sotto un elenco dei vostri voti ditemi il miglior in campo non sto neanche a dirlo è anche Di Maria e ditemi a questo punto se la Juventus ha la possibilità di vincere questa Europa League non sto neanche a dirlo è un giocatore non sto neanche a dirlo è un giocatore